Ciao, eccomi qui. Sono qui proprio per rispondere ad alcune delle domande che sono arrivate ai nostri tutor in merito al viaggio in Bosnia. Il viaggio in Bosnia non sarà solamente un viaggio, sarà un'esperienza che faremo insieme. Ed è un evento, come posso dirvi, molto particolare. Alcuni hanno chiesto proprio tutta una serie di informazioni razionali, gli spostamenti, dove andremo, a che ora, quando si mangerà. Se qualcuno di voi mi conosce sta benissimo che queste informazioni non sono da chiedere a pattina. Ma oltre a questo anche il programma, il programma. Ragazzi, questo è un viaggio canalizzato dove io ho già ricevuto pochissime informazioni. E' un viaggio basato sulla fede e su quello che è giusto che arrivi. Quindi, non cercate di controllare me e soprattutto le guide. Non è questo lo scopo. Se senti il bisogno di controllare, mettiamo caso che tu senta un richiamo molto forte per fare questa esperienza. Questa esperienza, se tu senti un richiamo, è perché in qualche modo ti serve. E forse, 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 non è che ti serve proprio anche a lasciare andare il controllo? Anch'io devo lasciare andare il controllo, perché comunque saranno cinque giorni di lavoro di cui io so pochissimo. Ma entro nella fede, l'ho già fatto tante volte e tutte le volte che l'ho fatto è stato ancora molto più bello rispetto a quello che mi sarei potuta aspettare. Io ho basato la mia vita, non un corso o un weekend, su questa tematica. Tutta la mia vita, da un certo punto in poi, è stata guidata. Quindi, se ho messo in ballo la mia vita, se tu senti il richiamo, perché se tu vuoi venire per curiosità, è un altro conto. E probabilmente può anche darsi che tu non sia adatto a fare questo tipo di esperienza, anche perché noi facciamo un colloquio proprio per selezionare le persone che sono pronte a fare questo tipo di esperienza. Ma se tu senti un richiamo, la tua anima forse ti sta dicendo che questa cosa, per un motivo o per un altro, ti servirà. Quindi, non cercare di avere più informazioni di quelle che noi stessi abbiamo. Non cercare di controllare gli eventi. Non cercare di controllare la tua anima con il tuo ego. Perché non ha senso mettere la tua parte più intelligente ed elevata sotto la tua parte che ha paura e che vuole controllare tutto, che vuole mantenere le cose così come sono, che ha paura della trasformazione, del cambiamento, che forse è proprio il motivo per cui tu puoi essere interessato a fare questo tipo di esperienza. Quindi, quello che ti voglio dire, non è vieni assolutamente, perché tanto non è adatto a tutti questo viaggio, te lo dico proprio, non è adatto a tutti. E probabilmente molte delle persone che sono incuriosite non sono le persone giuste a venire, per venire qui, per venire a fare questo tipo di esperienza. Ma se senti il richiamo, c'è un motivo. E allora, a quel punto, non ci deve essere niente che ti blocca. Se tu senti un richiamo, non ci deve essere nulla che ti blocca. Nel fatto di non avere il controllo, nella paura di non farcela con i giorni perché è pura che non ti diano le ferie. Tutte queste paure sono solo paure che tu crei razionalmente per dare ragione al tuo ego. Noi siamo bravissimi a raccontarcela, noi siamo bravissimi a giustificare i nostri sabotaggi. E ce la raccontiamo che alla fine va bene così. Ma potrebbe anche andar bene così, potrebbe anche andar bene che tu non venga. Ma se la tua anima te lo sta dicendo, allora lì forse, forse è il caso di pensarci. Quindi, tutte quelle che sono le tue obiezioni razionali, fammelo dire in modo educato, sono tutte stupidaggini. Se le tue obiezioni vengono dal cuore, allora lì è un'altra questione. Ma se tutti i due i dubbi arrivano da qua, tu pensi che la tua mente abbia ragione sul tuo cuore, questo non accade e non accadrà mai. Quindi io ti dico, vieni solo se senti il richiamo. Anzi, proponiti solo se senti il richiamo, perché poi comunque ci saranno i tutor che sono bravissimi a valutare chi è pronto e chi non è pronto a fare questo tipo di esperienza. Proponiti di fare anche solo il colloquio, solo se sei pronto a lasciarti andare. Solo se il tuo cuore si apre, anche se hai paura di questo tipo di esperienza, perché non sappiamo che cosa accadrà. Io ho fiducia che accadrà qualcosa di meraviglioso e soprattutto la cosa giusta. Ma neanch'io so tutto quello che accadrà e so che anche per me sarà qualcosa di veramente trasformativo, perché me l'hanno già detto. Non sarà una passeggiata, ma sarà una profonda trasformazione. E io non vedo l'ora di fare questa profonda trasformazione. E molte volte le trasformazioni ci fanno paura, perché comunque tu dici chissà cosa accadrà, non posso controllare. E vengono fuori tutte le paure che magari abbiamo nel nostro profondo. Ma magari superare quelle paure è quello che ci farà fare il prossimo passaggio evolutivo. Quindi questo era quello che ci tenevo a dirti, proprio perché è una cosa che è arrivata da parecchie persone. In questo modo io spero di averti aiutato a prendere la decisione corretta per te. Ti abbraccio e buona scelta. Ciao!